Lutto nella televisione italiana che piange la morte di Nicoletta Orsomando, annunciatrice e presentatrice tv, la prima signorina, buonasera, come erano chiamate le annunciatrici della RAI e una delle più amate. Aveva 92 anni e per decine di anni è stata una dei volti più noti della televisione italiana. Nel 1953 fu chiamata a presentare un documentario sull'enciclopedia britannica della National Geographic, ruolo che le permise poco dopo di essere ufficialmente la prima annunciatrice. Lo scorso gennaio aveva festeggiato i 92 anni in compagnia delle ex colleghe Gabriella Farinon, Paola Perissi, Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi, Abba Cercato, che a lei si erano ispirate per il loro lavoro di annunciatrici. Grazie.